ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul canale oggi vi propongo questo video un po particolare per sistemare il contenuto delle beauty box ho preso queste scatole di sephora per aiutarmi e in questa scatola metterò le prodotti per il viso prodotti per il corpo e prodotti per i capelli li dividerò così saprò dove metterli nel senso tipo i prodotti per il viso li lascerò alcuni qua e alcuni nel bagno i prodotti per il corpo li metterò nel bagno e i prodotti per capelli idem perché come vi faccio vedere la scatola del beauty box non mi fa diciamo non li riesco a utilizzare infatti oltre che mi occupano tantissimo spazio lasciate perdere i segni con le mani oltre che mi occupano tantissimo spazio fa sì che queste scatole sono molto ingombranti e ogni volta li devo cercare dentro queste scatole vedere cosa c'è all'interno questo ve lo metto velocizzato perché ovviamente voglio rilassarmi e godermi questo video piano piano vi farò vedere i prodotti e dove li inserisco alcune cose le ho anche sbagliate ma quello non fa niente diciamo è un divertimento comunque vi lascio il video e godetevelo ciao 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 ciao